Pensa a un luogo dove liberare le emozioni e sprigionare un ricordo. Dove entrare e ritrovare il sorriso. Naima è più di una profumeria. È un luogo dove sentirsi accolti e dove vivere la bellezza di ogni emozione. Vieni in profumeria entro il 2 luglio. Puoi vincere ogni giorno due buoni cinema per Disney e Pixar Inside Out 2 e partecipare all'estrazione di un viaggio a Disneyland Paris. Naima, la tua profumeria. Disney e Pixar Inside Out 2, dal 19 giugno solo al cinema. Grazie a tutti.